Esperimento di comunicazione. Ieri sera sulla 7 a di martedì, nonostante un conduttore, Giovanni Floris, del SRPD, che durante la sua intervista ha interrotto continuamente Luigi Di Maio, mentre quando ha ospitato Matteo Renzi e Maria Elena Boschi è stato prono più di Bruno Vespa, sono emerse chiaramente le posizioni dell'M5, sono andate da quello su molte delle magagne italiane. Tutti gli animali sono... uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. ... 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 I'm still nervous from outside the body and at room temperature. I'm still nervous, I'm still nervous, I'm still nervous. I'm still nervous, I'm still nervous. I'm still nervous, I'm still nervous. non è in webmarketing Grazie. Dimmi. No, dice che tornerà verso le otto perché è a Como con un amico. Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... ... 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 Il momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, Mr. Potter. It's true, April. They were tricks. All tricks. Ploys, boy. Ploys. Tricks, ploys. What difference does it make? That's why I... That's why you stopped. Isn't it? That's right. Come, April. Let me take you away from all this. I love you, April. Oh, Henry. I love you, too. Shh. We are witnessing the birth of a new ploy. No, Mr. Potter. I love April, and I want April to love me. I do. I do. No. Not sincerity, Palfrey. Just a minute, something's gone wrong. Stop there, I say. There's another fragment. School of Scounders. That's right. Bye. Bye. Grazie a tutti.